Eh no adesso Camilla c'è? Se c'è Camilla e poi facciamo Pasqualina, prima le compagne e poi abbiamo tre maschietti e abbiamo finito. Andrea hai fatto quattordici minuti. Mi vedete? Mi sentite? Ecco abbiamo una presenza più giovane di quella che è stata fino adesso. Camilla ciao grazie. Ciao a tutti. Grazie a voi innanzitutto farò un intervento molto breve, sono molto contenta di rivedervi, vedo voi due in video, ho ascoltato moltissimi interventi molto interessanti quindi diciamo che ho poco da aggiungere sul piano dei contenuti, però appunto io faccio parte di Paese Reale come alcuni di voi almeno sanno e quindi diciamo brevemente proverò a portarvi un po' quella che è la nostra prospettiva. Appunto ci troviamo in un momento storico come è stato già sottolineato veramente difficile, problematico, veramente urgente per cui personalmente ma anche come a nome di Paese Reale crediamo che sia il momento di in un certo senso trovare delle soluzioni anche nuove, innovative anche rispetto al passato. Perché vediamo come già in due o tre anni, basterebbe prendere proprio gli ultimi due o tre anni per vedere come la situazione storica, politica su più fronti è mutata talmente repentinamente che a volte si fa fatica proprio a seguire questi processi storici in cui ci troviamo dentro e in cui facciamo anche fatica un po' a orientarci. L'attentato di ieri è soltanto uno degli esempi di fronte a cui proviamo a dare spiegazioni, però effettivamente è difficile trovare un po' il nostro orientamento. Pertanto noi riteniamo che la sinistra, appunto la sinistra radicale che è anche lo spazio politico entro cui noi ci identifichiamo e ci muoviamo, debba ovviamente trovare come anticipato delle soluzioni innovative. Queste soluzioni ovviamente si concretizzano in una scelta anche di codici comunicativi nuovi, perché il vero problema oggi è che chi dovrebbe fare politica più attivamente, partendo dal voto che è la manifestazione più esemplare dell'attività politica, ma chiaramente non si tratta soltanto del voto, però appunto chi è più toccato da questa crisi su più fronti sono coloro che poi effettivamente in un certo senso si sottraggono, che comunque sfuggono totalmente rispetto all'impegno politico. Dunque a nostro avviso quello che dovrebbe fare una forza politica di sinistra, per utilizzare un termine così un po' lato, quello che dovrebbe fare una forza politica di sinistra è cercare di recuperare in un certo senso quella parte di mondo che è rimasta per troppo tempo emarginata. Io credo che ci sia la volontà di farlo, questo ce lo siamo detti anche in più occasioni con alcuni di voi eccetera, e però quello che dobbiamo fare oggi a partire da noi stessi, lo dico in primis, a partire da me, è cercare effettivamente di ripensare quale possano essere appunto delle soluzioni reali. Bisogna davvero mettersi in un certo senso in discussione profondamente per capire come creare anche dei canali di comunicazione che oggi palesemente non ci sono e che mancano. Quindi secondo me e anche secondo Paese Reale questo è uno dei problemi più grandi, dunque come arrivare a quella parte di mondo, come offrire realmente rappresentanza a quella parte di mondo e come dunque provare veramente a cambiare le cose. Qualche diciamo così per aprire un po' il discorso più ai contenuti e più diciamo alla situazione concreta del nostro Paese, siamo di fronte veramente a un momento storico difficile, abbiamo appunto la guerra su più fronti, c'è sicuramente un problema di indifferenza in un certo senso nei confronti di quello che sta accadendo, di indifferenza causata anche dal fatto che l'informazione, vediamo che è totalmente no, però in gran parte manipolato o comunque parziale. Per esempio ieri leggevo un articolo della BBC che appunto riportava il fatto che, questo faccio un esempio per dare un po' la misura, riportava il fatto che la Russia e la Cina si fossero appunto espresse contro il provvedimento per il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti. Ecco, quell'articolo non menzionava per nulla il fatto che la motivazione diciamo per cui la Russia e la Cina si erano opposte a questo cessate il fuoco era che appunto avrebbe autorizzato Israele a invadere Raffa. Quindi diciamo questo per capire come un mezzo di informazione, insomma una piattaforma così importante come la BBC restituisce un dato totalmente parziale perché mancava effettivamente la motivazione, era semplicemente quasi una notizia appunto da Facebook, un titolo che non diceva nulla. Questo mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare ma appunto se non possiamo neppure avere diciamo la certezza, la completezza, se neppure i mezzi di informazione sono in grado di restituire un po' di quella complessità delle cose, del presente, allora a chi effettivamente dobbiamo rivolgerci? Cioè c'è una perdia di senso dell'orientamento che appunto è causato anche da questo genere di cose. Una persona che non è politicizzata, che non fa politica, ma anche che non ha il tempo di andare lì a informarsi oltre la BBC, apre un articolo, legge e chiaramente avrà un'opinione sulle cose appunto prodotta da quello che effettivamente ha letto. Quindi considerando appunto anche questa situazione qui, credo che il ruolo per chiudere, il ruolo diciamo che deve essere il ruolo di chi fa politica, è quello di provare anche a offrire in un certo senso un orientamento, una guida e questo è un compito estremamente difficile, però appunto richiede tanta formazione, tanto studio e in un certo senso richiede anche una capacità, torno appunto al discorso iniziale dei codici comunicativi, della comunicazione, di arrivare a quelle persone e offrire loro una rappresentazione un po' diversa, che provi a rimettere insieme dei pezzi che oggi sono totalmente, che appaiono totalmente disgregati, che provi a rimettere i pezzi insieme, che provi dunque a fornire anche una realtà, una rappresentazione del mondo e anche una visione del mondo, per utilizzare un termine diciamo un po' più filosofico, alternativa davvero. E con questo chiudo qui e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie Camilla, grazie. Grazie, un po' dirò qualcosa anch'io su questa cosa. Grazie. Grazie.